10.000 metri d'eliminazione, senior Paschi Anche qui livello altissimo Campana per l'eliminazione Campana per l'eliminazione 99 per Mass eliminato Campana per l'eliminazione 971, 971 eliminato Campana per l'eliminazione 971 fermati Leonardo Pancato Campana per l'eliminazione Campana per l'eliminazione 164 164 164 164 164 164 164 164 157 168 168 626 eliminato, 626 Michael Pioves, grazie, guardate Michael Matteo Angeletti 287, 987 fermarsi, 297 ammonito Matteo Angeletti Davanti, anche qui siamo al massimo livello 597 eliminato Nazionale, non solo, tanti titoli, tante maglie azzurre in questa finale con quasi tutti i fondisti più veloci d'Italia Anche di Stefano, Angeletti, trovano i giovani del Bellusco all'interno 5 eliminato, numero 5 fermarsi numero 5 fermarsi Matteo Angeletti è tornato in testa del gruppo insieme con il compagno di squadra Daniele Di Stefano dietro di lui Bravante non è male come terzetto di testa ma i ragazzi di Bellusco sono sempre lì 963, 9-6-3 6-3, Matteo Grandezzo, grazie Matteo 9-7-3 9-7-3 9-7-3 9-7-3 9-7-3 9-7-3 9-7-3 9-7-3 9-7-3 Campana al prossimo eliminazione di meno 27 siamo quasi a metà gara bell'azione di Davide Abadini dall'esterno va davanti in agilità e ripartono 9-9-4 eliminato 994 fermarsi e tornano i ragazzi di Bellusco a donna a posto la volta a metà in la gara posizione 994 fermarsi anche non Stefano 674 Stefano e Angeletti poi Bramante poi Quattarella si si ha i ragazzi di Bellusco ma sono ancora i due portacolori nella gruppo cosmo di Noale ci hanno attivato tantissimo sia Angelo che Stefano 159 eliminato il 159 deve fermarsi Purtroppo anche Matteo Casadei deve abbandonare questa tiratissima 10.000 con ancora i due portacolori della gruppo cosmo di Noale che hanno tirato tantissimo almeno una vicina di giri poi poi 267 eliminato e poi anche Matteo Pavisona numero 297 entra in giustina 595 eliminato 595 per Massimo 595 595 eliminato il numero 208 e Gabriele Di Nutto ha tenuto duro quando al passaggio mancheranno 16 giri stiamo entrando negli ultimi 3000 metri il gruppo si è notevolmente assottigliato e sono sempre Matteo Pavisona intanto prova in tutti i momenti ad andare avanti Matteo Pavison vai 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 Angeletti è di Stefano non 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 posizione, poi è giusto per avanti, 605 eliminato, 605, 605, 605, Matteo Barisone, ha parlato in tutti i modi, è andato avanti, ora è già suonata la campana, quindi c'è un'altra eliminazione al passaggio, i due rosso-verdi di Noale, non mollano ma in questo momento è un atleta di Bellusco che passa davanti, 654 eliminato, 654, 654 deve fermarsi, 654 Roberto Mallorca, un altro grande personaggio che viene eliminato in questa gara, ora è Quadarella che va davanti, provano ad accederare il team di Bellusco, 135 eliminato, con Quadarella e l'Orello, poi Di Stefano e poi Baramante e poi Angeletti. Quando? Gare finale di velocità, allievi, femmini maschi, al termine della gara, 5 minuti di riscatamento. come si può essere detto, ma teniamo l'occhio su questa tiratissima finale, ultimi 1500 metri circa. 302 eliminato. e poi la gara. E' dato, Antonio Angeletti ma è tornato davanti Riccardo Bossi dopo qualche giro e viene su il ritmo. Bossi, Lorello Di Stefano, Toramante, Matteo Angeletti e poi Loregatzi di Siena. 364 minuti Fabio Quadarella ha dato moltissimo per il suo team e ora siamo agli ultimi sei giri Giuseppe Promante davanti facendo attenzione a non ascoltare troppe energie in quattro per una posizione Romante di Stefano 260 Riccardo Bossi, una bella gara per lui al servizio della squadra Suona e sono ultimi 800 metri, ultimi quattro giri E prova Gabriele Candoni, prova l'azione Gabriele Candoni 631 eliminato Filippo Scosto ha dato tutto anche i cannoni sono arrivati in 4 Romante di Stefano 2 3 1 2 2 3 2 3 4 2 2 5 3 5 4 6 6 7 4 5 Daniele di Stefano!